La comunicazione negli eventi moda è fondamentale, se è fondamentale per tutte le Fashion Week lo è ancora di più per una nuova Fashion Week che deve spiegare al mondo che cosa fa, con quali attori si rappresenta, come si colloca sul mercato internazionale, quindi la comunicazione in questo caso è essenziale.